Due arresti in due giorni, sembra il titolo di un film ma altre sì, è la realtà dell'attività svolta dalla compagnia Carabinieri di Fano in quest'ultimo fine settimana. Il primo arresto riguarda un italiano di 44 anni, residente a Fano, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando l'uomo, alla guida della sua autovettura, una Jeep Renegade, ha tentato di eludere un posto di controllo predisposto nei pressi dell'uscita della superstrada. Fano Grosseto in direzione Fano, prima rallentando e poi accelerando repentinamente per tentare la fuga. Dopo un breve inseguimento l'autovettura però è stata raggiunta, così come il conducente, perché il 44enne, dopo aver abbandonato il veicolo quasi ancora in movimento, ha cercato di darsi la fuga a piedi, ma inutilmente. Le sorprese però non sono finite qui per i militari, perché sull'auto come passeggero c'era un altro italiano di 38 anni, anch'esso residente a Fano, che durante la breve fuga è stato sorpreso dai due carabinieri, sempre vigili e attenti, a disfarsi dal finestrino di un involucro contenente della cocaina, i cui residui poi sono stati anche rilevati sul passamano della portiera dell'auto, motivo questo del tentativo di fuga dei due. Nelle operazioni di bloccaggio del mezzo però un militare ha riportato anche lievi contusioni. Il conducente è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, udienza di convalida e rito direttissimo, nel quale il fanese ha patteggiato la pena di 10 mesi di reclusione con l'obbligo di firma, denunciato a piede libero invece il suo passeggero. Il secondo arresto è stato operato nella notte, tra venerdì e sabato, per maltrattamenti in famiglia, ad opera di un cittadino straniero di 51 anni che malmenava in un appartamento in via dell'industria, la propria compagna con calci e pugni al volto, per le conseguenze delle quali la donna si è dovuta recare al pronto soccorso di Fano per essere medicata e curata. Le violenze andavano avanti da oltre tre mesi, ma la donna, una 44enne anch'essa straniera, ma da molti anni residente a Fano, non aveva mai denunciato. Subito dopo la violenza, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri, coordinati dal comandante Papale, per le vie di Fano e arrestato. Stamane anche per lui, udienza di convalida, ma il giudice, visti gli atti, ha disposto a suo carico la misura del carcere e così è stato portato a Villa Fastigi.